Adesso suoniamo un pezzo dedicato al contrapassman, ha fatto uno dedicato alla batteria, ci tocca anche indicarlo al contrapass. La danza del cinghiale. La danza del cinghiale. Allora, concludiamo la parte jazzistica, dopo farò qualche brano non jazz, come vi ho spiegato l'altra volta. La concludiamo, siamo arrivati agli anni 60 e oltre, un pezzo di Miles Davis impostato sul jazz modale. Allora, già questo brano qua, quando lo improvvisavano, lo improvvisavano su due soli accordi, infatti è molto ripetitivo. Questo jazz modale si muove tutto su un accordo che poi sale di mezzo tono, quindi il contrapasso, qui delicheremo questo brano, farà a disposizione del tema e poi suonerà su delle armonie modali, che sono quelle che andavano poi negli anni 60 e 70 con Miles Davis. E' il suo vostro brano. 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 Il suo vostro brano. E' il suo vostro brano.